Che divertimento con le nuove pinnipolle? Nuove pittinature! Hanno i capelli veri! Sono spaventive! Condisce la sciarpa! Sono tatine! Il profumo di prusauri non esiste! Questa sarà la vostra casa! La nuova collezione delle pinnipolle sarà meravigliosa! Samosa! Vivi una nuova avventura con Scotland Yard Venezia! Attraversare la savana con la barba automobile! Ma dopo ore di perlustrazione, la mamma gnu non è stata trovata! Molto bene! Siamo felici di poter seguire regolarmente la scaletta dello spettacolo che prevede...